Quando si porta avanti una politica monetaria, e questo vale per la zona euro ma anche per qualsiasi banca centrale al mondo, si porta avanti una politica monetaria con un'iniezione di liquidità attraverso i canali esistenti in un periodo specifico di tempo. In Europa sono le banche ad avere il ruolo principale nell'economia, l'economia si basa sulle banche e quindi la politica monetaria funziona attraverso la trasmissione, attraverso il canale bancario negli Stati Uniti, si agisce piuttosto attraverso i mercati finanziari, comunque sostanzialmente questa è la politica monetaria. Lei ha chiesto, è il modo migliore per distribuire liquidità? Quando si perseguono obiettivi quali la lotta al cambiamento climatico, la riduzione delle disuguaglianze in maniera più efficace, probabilmente ci sono anche modi diversi di agire. Effettivamente alcune delle nuove idee legate alla politica monetaria, come l'MMT, il recente documento presentato da diversi autori, tra i quali troviamo anche il professor Fischer e da altri, propongono dei metodi diversi per trasmettere il denaro verso l'economia. Si tratta di idee nuove, che non sono state discusse dal Consiglio direttivo, quindi dovranno essere prese in considerazione, ma non sono state messe alla prova, per così dire. Guardando con attenzione a queste nuove idee, si nota che il compito di distribuire denaro verso un soggetto o verso un altro soggetto è un compito del governo, è un compito che aspetta il bilancio, non la banca centrale. Non dobbiamo far sì che sia la banca centrale a decidere chi deve ricevere denaro.